Salve ragazzi, eccoci per commentare Juve Porto, la Juve ha vinto, ha passato il turno Siamo riusciti a passare sto cazzo di turno, bene, bravi ragazzi, non abbiamo giocato una partita chissà quanto entusiasmante Abbiamo avuto qualche occasione con Dybala e qualcuna con Bonucci, poi alla fine l'azione principale Gran colpo di testa di Mangiukic, cross dalla destra, fa una grande parata di Castilias Poi qua in botta sicura il difensore ha fatto una parata, calce di rigore per la Juve nettissimo e espulsi il difensore Poi va di bala dal dischetto e la mette dentro senza tanti problemi 1-0 per la Juve, poi la Juve nel primo tempo ha abbastanza gestito, loro hanno fatto un tiro in porta Nel secondo tempo invece la Juve ha fatto 2-3 cazzare difensive e loro hanno avuto due occasioni clamorose da soli davanti al portiere Ci hanno graziato, ci hanno graziato, siamo riusciti a portare a casa anche questa vittoria Domani ragazzi ci sono questi cazzo di sorteggi, speriamo bene, speriamo bene Sarebbe l'ideale prendere, parliamo di chiaro, Borussia Dortmund, Monaco, Leicester, sarebbe l'ideale Ma ragazzi, la Juve deve stare tranquilla perché anche se becchiamo Barcellona o Bayern Monaco Ce la andiamo a giocare con Bayern Monaco, come abbiamo dimostrato l'anno scorso Che se la Juve fa la Juve, ce la può giocare con tutti, tranne che col Barcellona secondo me Ma anche se becchiamo il Barcellona, ragazzi, ce la giochiamo, ci proviamo Mi rispetto per tutti, paura di nessuno La Juve, se becchiamo il Barcellona, se la giochiamo col Barcellona Andiamo a casa loro con la consapevolezza di poter vincere Perché se vai là con la consapevolezza di perdere, sono cazzi amari Questo è Dicendo anche che la Juventus secondo me potrebbe farcela col Barcellona Potrebbe farcela e speriamo che ce la faccia Se becca il Barcellona Dobbiamo beccare le altre squadre Ma se non becchiamo le squadre più semplici La Juve deve cercare di farcela Ecco Quindi domani ci sono i sorteggi Vediamo questi sorteggi come vanno E speriamo bene, ragazzi Speriamo bene Ragazzi ci vediamo domani con il commento del sorteggio Ciao e forza Juve